World System Software. Sia per i singoli passi, che per quello di taglio che può essere a potenza maggiorata. Memorizzazione ed archiviazione dei dati relativi ai cicli di lavoro giornalieri, e i generazioni di statistiche di produzione giornaliera, numero di saldature e metri di traliccio prodotti. Possibilità di programmazione da remoto, e di acquisizione delle statistiche di produzione tramite connessione seriale, RS 232.